Stare in casa non ha portato molta fortuna per ora? No, per ora no, però bisogna dare merito sicuramente alle avversarie e dare merito a noi stesse perché credo che si siano visti dei passi in avanti e soprattutto inizia a vedere una direzione in cui possiamo andare e possiamo procedere. È sempre una squadra molto giovane, ma insomma iniziano a vedersi, come diceva anche lei, i frutti degli allenamenti e si inizia a costruire un buon gruppo. Sì, sicuramente, a me come avevo già detto la squadra giovane non mi interessa, sicuramente ci sono delle cose a livello di lettura, di gioco eccetera eccetera in cui siamo ancora molto indietro, forse per l'età ma soprattutto per l'esperienza di gioco, però credo che sia un vantaggio perché abbiamo solo da migliorare, da crescere e spero che dimostreremo quello che realmente valiamo. Su cosa vi concentrerete di più nei prossimi allenamenti? In realtà abbiamo intrapreso un percorso che è quello di stare attente in ogni situazione di gioco, individualmente e di squadra. Stasera l'abbiamo fatto a tratti, quando l'abbiamo fatto si è visto che possiamo stare a ritmo anche di squadre che sono costruite molto meglio di noi o per comunque altri obiettivi e quando l'abbiamo fatto ci siamo, però a pallavolo non basta un set, un set e mezzo o due, si vince tre su cinque quindi il percorso è lungo, sarà difficile, dobbiamo condividerlo tutti insieme, non solo lo staff ma anche le ragazze, da qui ripartiamo e sono fiducioso per il futuro. Viverla in campo è sempre diverso, cos'è che non ha funzionato? Ma principalmente non eravamo lucide nelle situazioni più semplici e loro sono una squadra che sbaglia poco e quando inizia a giocare veloce e va in ritmo mette sotto qualsiasi avversario, quindi sì principalmente questo e anche sul cambio palla abbiamo faticato, loro sapevano quali fossero i nostri punti deboli e sono state molto brave a battere nei giusti conflitti. Siete comunque riusciti a tenere viva la partita nel terzo set, riuscendo a rimontare e vincendo almeno quello? Basta quel poco in più e veramente possiamo giocare con chiunque, il problema è che non possiamo permetterci di tenere questo atteggiamento per un set solo bisognerebbe partire già dal primo set così, che gli avversari giocano tutti dall'inizio della partita, noi invece siamo un diesel, partiamo un po' dopo. Diciamo che l'inizio del campionato non è andato proprio bene, però c'è ampio margine di miglioramento e molto tempo per appunto mettere in campo più grinta. Ma assolutamente, io vorrei solo dire che in casa abbiamo giocato, abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere contro Genova con Rubiera che mi sembra siano le prime, abbiamo tenuto testa e oggi anche queste sono una squadra penso costruita per la promozione quindi bisogna un attimo aspettare altre squadre, noi sicuramente dobbiamo vendere la pelle con tutti però secondo me ci sono partite da vincere, questa era da giocare, non da vincere.